buongiorno benvenuti a tutti oggi parliamo con il segretario nazionale di federfarma roberto tobia su un tema molto buongiorno 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 a lei oggi parliamo di home delivery cioè della consegna dei farmaci a domicilio che è un servizio che federfarma ha iniziato l'anno scorso insomma in già nelle prime settimane della pandemia e che continua a portare avanti anche in collaborazione con la croce rossa italiana quindi cerchiamo oggi di capire un po' come è nato questo progetto come si è sviluppato e soprattutto insomma è visto che immaginiamo abbia dato buoni frutti se intendete portarlo avanti quindi prego il segretario ci racconti un po' questo questo servizio bene grazie innanzitutto per l'opportunità che oggi ci state dando lei ha perfettamente centrato il tema ricordando quello che è stato il ruolo della farmacia italiana soprattutto nel momento più brutto più terribile della della pandemia nei mesi di marzo aprile lo scorso anno quando le farmacie sono rimaste forse l'unico presidio sanitario nel quale la gente si recava non solo per avere i farmaci quindi la possibilità di ricevere informazioni e supporto molto spesso anche psicologico molta gente però non poteva recarsi presso presso le farmacie e quindi abbiamo chiaramente pensato di mettere in atto un protocollo d'intesa con la croce rossa italiana che permettesse la consegna del farmaco a tutti i soggetti fragili soggetti covid ai soggetti che non potevano in alcun modo recarsi in farmacia ma sono stati gli stessi farmacisti soprattutto nelle zone rosse di quel periodo tristemente famose che si sono occupati personalmente o attraverso il loro personale di farmacia di consegnare i farmaci al domicilio del paziente ricordo di colleghi che impuranti del del tempo della neve eh la sera chiudendo la farmacia eh si regalano personalmente a consegnare i farmaci a soggetti anziani a persone isolate che non avevano la possibilità neanche di mandare un familiare o qualcuno che si occupasse di lui di loro per ricevere il farmaco e quindi è nato il progetto di collaborazione con la cosa in rosta c'è stato anche un periodo nel quale abbiamo collaborato con eh la società società di motociclismo che eh dava la eh opportunità attraverso la loro rete di bikers di ehm consegnare i farmaci eh al domicilio dei pazienti quindi ci siamo attivati come succede sempre eh quando eh la farmacia eh è in in azione quando la farmacia vuole dimostrare quello che in realtà è cioè l'inizio azione dei cittadini anche questo aspetto è stato sicuramente attenzionato e curato nel migliore dei modi. Oggi il protocollo è attivo quindi ancora ossibile per tutti quei soggetti fragili per tutti quei soggetti covid che non possono eh recarsi in farmacia usufruirne ma rimane sempre in ogni caso la disponibilità delle farmacie italiane alla consegna per tutti questi soggetti che hanno questo tipo di difficoltà. Ecco eh ritornando appunto ai pazienti fragili sono quelli che hanno avuto più necessità e che continuano ad averla quindi non solo pazienti anziani ma persone anche più giovani che hanno comorbidità insomma non si possono muovere sono sono tante le categorie che rientrano insomma sotto il cappello della fragilità. Ehm non so se si può avere qualche numero insomma quanti quanti servizi se quanti quanti consegni avete fatto avere avere un ordine un ordine di grandezza e soprattutto se il servizio è attivo in maniera omogenea in tutta Italia o se avete riscontrato magari difficoltà in qualche regione. Ma in una in una nazione come l'Italia in un paese come l'Italia stretta e lungo che peraltro ha eh per caratteristiche morfologiche orografiche difficoltà anche di spostamento sicuramente eh anche perché ci sono regole diverse da regione a regione qualche eh possibile difficoltà si è riscontrata ma siamo intervenuti per cercare di eh risolverla. È chiaro che eh questo è un servizio sul quale noi puntiamo per essere da supporto a quei soggetti fragili eh o come comorbidità i quali faceva riferimento prima e in ogni caso rimane sempre la disponibilità da parte dei farmacisti eh titolari di farmacia attraverso i loro collaboratori o attraverso le società di delivery che eh prendono accordi con le farmacie stesse di consegnare in maniera sicura in maniera certa se si tratta ad esempio di farmaci che necessitano di un controllo della temperatura attraverso il controllo della temperatura stessa i farmaci al domicilio per i pazienti che chiaramente non possono regarsi in farmacia. Ecco per quanto riguarda i farmaci per l'appunto quali tipi di farmaci sono stati eh consegnati? Quelli eh in distribuzione per conto o siete riusciti anche a fare insomma qualche qualche collaborazione con le farmacie ospedaliere quindi distribuire anche quelli eh diretti? guardi eh ci sono state delle esperienze un po' a macchia di leopardo eh in alcune regioni eh è nata anche questo tipo di collaborazione però nella maggior parte dei casi eh è stata la farmacia a farsi promotrice attraverso la Croce Rossa nei casi in cui ai quali facevo riferimento prima o attraverso società di delivery per consegnare i farmaci al domicilio del paziente. Sulla tipologia dei farmaci è chiaro che si tratta nella maggior parte di casi di farmaci eh indirizzati ai soggetti anziani quindi con comorbidità, soggetti cronici, le categorie sono le più disparate, non c'è una una categoria che prevale eh eh sulle altre quindi è chiaro che eh dati eh certi dal punto di vista numerico non ce ne possono essere comunque sicuramente sono decine di migliaia le consegne effettuate dalle farmacie in questo periodo diciamo ulteriormente aggravato dalla pandemia. Ok. Ecco quindi però i farmaci soggetti a piani terapeutici insomma quelli che vengono monitorati dagli ospedali per il momento è qualcosa che ancora non non si riesce a distribuire parlando proprio con i farmacisti ospedalieri mi hanno spiegato che loro ci hanno anche provato ma non è non è fattibile in questo momento insomma. Sì lei fa riferimento all'istribuzione diretta perché in alcune regioni i piani terapeutici ai quali fa riferimento lei eh servono anche o quantomeno vengono utilizzati in accompagnamento per la distribuzione per conto che è una cosa di per sé eh quantomeno originale perché se c'è la prescrizione dello specialista porta poi il piano terapeutico attraverso prima attraverso il paziente adesso attraverso i canali online che la farmacia debbia ulteriormente allegare il piano terapeutico per una consegna per conto quindi con il meccanismo attraverso il quale la ASL acquista il farmaco e la farmacia consegna è un'altra stortura che in alcune regioni esiste in altre in altre no. Però è successo anche questo quindi speriamo che questa eh diciamo semplificazione burocratica anche nell'ambito della sanità che è stata eh oggetto e sarà oggetto sicuramente dell'attenzione del del nuovo governo ci possa portare un contributo importante per la risoluzione di questi problemi nell'interesse dei cittadini che poi è l'interesse che le farmacie italiane perseguono di ogni altra cosa. Quindi comunque voi al di là della distribuzione diretta insomma che si vedrà se e come si 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 potrà si potrà fare voi continuate comunque in questo senso cioè al di là della pandemia se finirà voi comunque continuate a dare questo servizio. mi ci ricorda un attimo come funziona cioè è il paziente che chiama chiama voi chiama la croce rossa chiama la farmacia come come è organizzato questa consegna? Esiste un numero verde eh al quale il paziente può chiamare eh relativamente alla sua collocazione geografica poi attraverso questo numero verde la croce rossa indicherà la farmacia al presso la quale attraverso il paziente che magari la indicherà egli stesso eh potrà eh ricevere il farmaco e la farmacia organizzerà la consiglia domiciliare. grazie a tutti.